La sindaco, sempre dentro il mio accanto a me, come volete, è il sindaco che ha tolto e questo è un progetto che io ho in campo alla funzione di questo tipo di musica. Il sindaco, l'ex sindaco, il sindaco, il sindaco, il sindaco e l'ex sindaco. Questo è un progetto che rilasce l'auto come si deve, e questo è un progetto che è un progetto che è un progetto che è un progetto. Grazie. Grazie. Cominciamo questo percorso innanzitutto scoprendo la targa che è dedicata ai fratelli seguiti perché è giusto che il loro ricordo, diciamo, rimanga ancora in noi, sono stati importanti per l'opera, anche allo svolto di umanità e di social, ma in fondo, ricordate, all'interno di questa piazza, mi sembra che sia una continuità rispetto al percorso e alle scelte che noi restituiamo, io direi, non solo a questo quartiere ma in realtà uno spazio che è molto importante e che vorremmo che fin da ora fosse lo spazio di tutti, dove incontrarci, dove comunicare e di questo dovremmo ringraziare, perché io penso che ringraziamento attraverso me possa essere quello dove incontri, agitare e partire a quanti hanno voluto che questo spazio che era il regresso, che era la trascente, non si è restituito e quanti ci hanno lavorato, quindi dalle amministrazioni ai progettisti, a coloro che hanno dedicato tempo e risorse perché potessimo recuperare questo spazio di amministrazione. E allora, se permettete, vorrei in primo luogo scoprire la tarda, come dicevo, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.